Ciao, benvenuti a questo nuovo channel, a questa nuova occasione che ho per mostrarvi dei piccoli ricordi, delle clip, delle novità, dei pezzi inediti di come ho cominciato a lavorare, di come sono entrato nel mondo dello spettacolo e di come ho passato questi 30 anni di lavoro. Forse ritroverete molte cose che già conoscete, altre vi verrà voglia di andarle a rivedere, ma comunque sarà un'occasione per stare insieme. Ciao!